Ciao e benvenuti su MyFootballJersey. Io sono Stefano e oggi vi presento la maglia home dell'Arsena per la stagione 21 e 22. Quella che vedete è la versione player o authentic, cioè quella esattamente uguale a quella che indossano i calciatori. In questa versione, oltre ad essere utilizzati dei materiali un po' più tecnici, ad esempio gli stemmi e i loghi sono termosaldati. La maglia home dell'Arsenal, come vedete e come la tradizione è prevalentemente rossa, con le maniche bianche. Le rifiniture, diciamo così, i richiami, i dettagli sono bianchi come nello sponsor. Le strisce Adidas sono azzurre. Nel complesso è una maglia bella, ben riuscita e nella mia classifica prende tre stelle. Magari nei commenti mi direte cosa ne pensate, se siete d'accordo o meno. Ora vi lascio al resto del video in cui vedete tutti i dettagli. Ci rivediamo alla fine per i saluti finali. Ciao, buona visione! Nella versione player, lo stemma, il logo Adidas e il main sponsor sono termosaldati. In questa versione Adidas adotta la tecnologia Eat Ready. Sul colletto, sulle spalle e sulle maniche sono ben visibili i dettagli blu scuro che arricchiscono la maglia. Spero che il video vi sia piaciuto e spero possiate regalarci un like al video e sottoscrivetevi al canale. Con questo è tutto, ci rivediamo al prossimo appuntamento. Ciao!